Continua ad essere delicatissima la situazione al parco Miralfiore dove proseguono gli episodi di spaccio, gli arresti e gli inseguimenti. L'ultimo dei quali nei giorni scorsi è sconfinato fino alle proprietà private di via Cimarosa. È il caso di due ragazzi di colore in fuga da un controllo della guardia di finanza. Giovanissimi che sono penetrati nel giardino di un appartamento, un 49enne residente si è ritrovati di colpo ed è stato pure colpito a un fianco quando si è frapposto a loro per il timore che penetrassero in casa. Insomma c'è un'allarme criminalità che sconfina pure fuori dal parco, dove i controlli sono pressoché quotidiani e dove da lunedì ci sarà pure la protezione civile che creerà un distaccamento della sua attività negli spazi del bar Serra degli Agrumi che rimarrà chiuso per il periodo invernale. L'assessore ci ha chiamato informandoci delle problematiche che possono venire fuori perché due o tre mesi dovrebbe stare chiuso per il discorso che d'inverno è poco frequentato il bar. Allora ci ha detto se noi diamo una mano a tenere aperto, in qualche modo facciamo un presidio, una sede di staccati, in qualche modo facciamo un po' di attività qui per fare in modo che il parco viva e c'è sempre qualcuno. La finalità è quella per tenere il parco vivo ma anche per presidare il parco, per vedere che qui c'è un po' di attività, adesso ci sono i ragazzi del CEC che ci vengono a dare una mano per quanto concerne tutta la piattubazione e quelle cose lì. Noi faremo le nostre attività di protezione civile utilizzando magari i locali per quello che è, far vedere che il parco è vivo, il parco c'è gente, c'è presenza di continuo. Una presenza che si allargerà anche agli orari serali. 3-4 persone, poi c'è a rotazione ovviamente saremo qui il mattino, un poveriggio, anche la sera dopo cena magari faremo degli incontri. Noi facciamo anche dei corsi periodici, potremo fare i corsi qui utilizzando questi locali per fare in modo che ci sia sempre qualcuno sul territorio.